Nel video di oggi andiamo a vedere un'anteprima, un'anteprima di un protocollo, di un progetto che va a unire l'intelligenza artificiale e dei PIN. L'intelligenza artificiale dopo il lancio di chat GPT è praticamente esplosa, ci sono tantissime soluzioni di intelligenza artificiali che offrono soluzioni diverse ma con un aspetto negativo, ovvero la privacy dei dati. Infatti è proprio qua che si vuole piazzare Privasea che è un network che è progettato per dare priorità alla privacy dei dati e soprattutto alla sicurezza dei dati durante il processo di elaborazione delle richieste e dell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Cos'è che la rende un pochino diversa da tanti altri progetti? È la tecnologia che va a utilizzare la Fully Harmonic Inscription, la FHA, che consente di eseguire calcoli in pratica su dati criptografati, ovviamente, producendo risultati identici ai calcoli eseguiti su dati non criptografati. Questo cosa va a significare? Che le informazioni sensibili possono essere elaborate senza mai essere esposte nella loro forma originale. Questo approccio rende e facilita l'elaborazione dell'intelligenza artificiale tra più parti andando a garantire una estrema riservatezza delle informazioni sensibili. Tra le altre cose non è ancora tradabile il token utility all'interno del protocollo. Hanno appena finito il 18 marzo 2024 le sovvenzioni private. Come potete vedere ha raggiunto 10,45 milioni di dollari ed è stato sovvenzionato nelle strategiche round da Quei Venture, Laser Digital, Tanè. BRC Starter è stato lanciato poi su BRC Starter, Moon Starter, ma soprattutto, se andiamo a vedere, gli altri seed sono stati eseguiti da Binance Labs, Gates Labs, DuckDow, The Whales, Basic Capital e McVent. Quindi, essendo anche incubato da Binance Labs, non è detto che poi non potremo vederlo un giorno direttamente su Binance. Comunque abbiamo un tier 1, tier 2, tier 3, sono molto importanti questi elementi, questi investitori che hanno sovvenzionato il progetto. La tokenomics è stata effettuata con un 45% per il mining allo staking, 15% marketing alla community, 20% le pre-sale, 10% il team, 6% la riserva e 4% alla liquidity. Tra le altre cose, incorpora incentivi, token, regolato ovviamente, la smart contract, regolamentata da modelli di commissione del gas e lo staking per i mining alli staker, e utilizza un meccanismo ibrido proof of work e proof of stake. Dipone per essere compliance degli obiettivi importanti, ad esempio, aderire alle normative per la protezione dei dati, come ad esempio il regolamento generale sulla protezione dei dati per l'appunto il GDPR dell'Unione Europea. che vanno a racchiudere raccolte, elaborazioni, archiviazione dei dati personali in modo sicuro e non divulgabili. e facendo ciò pone un obiettivo di spingere gli individui, gli utenti a condividere volontariamente i propri dati, infatti cercando di preservarle, salvaguardarle così in modo approfondito, permette alla rete di coltivare la fiducia nei sistemi di apprendimento automatico sapendo che i nostri dati non vengono divulgati o non vengono divulgati nella forma originale, quindi si vengono addestrate le intelligenze artificiali senza andare a divulgare e mettere alla luce la fonte dei dati. Il network è composto da IC, l'app di PrivaSea, PrivaNetix e il kit PrivaSea per la creazione degli smart contact di terze parti. La IC è il cuore della rete di PrivaSea AI ed è esattamente la libreria che va a spitare la raccolta e le implementazioni dei dati e degli schemi. Ovviamente è una libreria open source dove gli sviluppatori sia del team o anche di terze parti hanno accesso a questa gamma di funzioni di dati che gli consente di eseguire delle operazioni all'interno del network. L'app di PrivaSea si può intendere già dal nome, è una risorsa per gli sviluppatori che vanno a creare applicazioni decentralizzate all'interno del protocollo con estrema privacy. Mentre abbiamo PrivaNetix che è praticamente la rete interconnessa di nodi di calcolo che sfruttano gli algoritmi FH e distribuendo i calcoli su più nodi va a potenziare ovviamente la scalabilità, l'efficienza del suo network. Questa enorme quantità di nodi funge anche da scudo per le avviolazioni dei dati, accessi non autorizzati, attacchi hacker, andando a rafforzare più nodi ci sono ovviamente la rete e la sicurezza. Tra le altre cose introduce il Proof of Human Technology dove tramite la creazione di un NFT univoco che va ad attestare la tua identità digitale va ad attestare che sei una persona, non sei un bot all'interno del Web3. Tutto questo poi tramite un'applicazione che si chiama App I'm Human e si può validare i dati biometrici in tempo reale utilizzando la fotocamera del telefono, accedere a servizi, airdrop, premi sulle varie app, confermando semplicemente la nostra tua identità digitale tramite quell'app, tramite quell'nft univoco. L'app è già disponibile sia per iOS sia per Google Play Store, sia per Android in pratica. Per utilizzare l'applicazione si deve ovviamente scaricarla, creare un account, scansionare i dati biometrici tramite la fotocamera e mintare un NFT. E mi pare che bisogna avere 0,03 sol all'interno della DAP, eseguire poi delle tasche e si potrà ricevere anche un airdrop direttamente in app. Me ne direi che questa piccolissima anteprima è tutto, andremo poi ad approfondire questo ecosistema non appena ci saranno degli sviluppi importanti. Comunque già questo è una buona base di partenza, soprattutto anche pensando agli investitori che ci sono dietro, quindi bisogna lasciare lavorare gli sviluppatori. Se siete interessati a conoscere ulteriormente questo protocollo vi invito ad univio ai loro profili social e ovviamente a leggere tutta la documentazione. Noi ci vediamo al prossimo video.